il suo crono ma chiaramente è da tenere d'occhio Marcucci che sta risalendo velocissimamente dalle retrovie c'è un'uscita un pendolo gestito male purtroppo numero 79 si tratta di Gonnella che credo che questo punto sia necessario andiamo a rivedere grazie alla regia di Mauro Valentinuzzi cosa è successo esattamente la persa e poi non è più riuscito a controsterzare è andata dritta all'interno con due ruote su un fondo e due su un'altra e qui invece abbiamo anche un'altra uscita ah si non ho fatto Ceresoli e Ceresoli il numero 88 mi è sembrato di vedere è Gioia è Gioia scusate è il numero 55 quindi Ceresoli con Gioia eh si è qui davvero qui dove vedete non è facile adesso rimuovere anche non solo la vettura ma chiaramente anche che Grazie a tutti.